Partiamo con il nome, con il nome e poi partiamo con il nome. Grazie per la visione! 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 Allora, alto là, fermati! Metti le mani sopra la testa! E ora lentamente sveliti per terra! Perfetto! Perfetto, no, dov'è avere laottima sensazione? Sei pronto? Vai! Alto là, fermati! Carabinieri! Metti le mani dietro la schiena! fermati, alto là, carabinieri fermati metti lentamente le mani sopra la testa ecco ora mettiti sdraiti per terra lentamente in ginocchio fermati hai il diritto di non parlare e se non hai un avvocato ci sta quello statale diciamo direi anche tu a Cinerania